Goduria per gli appassionati di motori che a Siderno hanno potuto ammirare più di 100 vetture bene esposte sul lungomare. Questo quanto hanno organizzato nel primo motoro 1 dal team Uragano Siderno con la preziosa collaborazione del Turbo Club Italia e Turbati Motorsport. Organizzazione impeccabile che ha mostrato passione e professionalità apprezzata da quanti si sono recati sul lungomare. Vetture tirate a lucido e molte le curiosità e le domande che hanno dovuto rispondere i proprietari. Dopo l'esposizione, vista la giornata quasi estiva, a mezzogiorno ecco le vetture accendere i motori e in corteo prendere la via per l'antico borgo di Siderno Superiore. Impeccabile il lavoro degli organi dello Stato che in modo professionale hanno regolamentato il traffico cittadino permettendo a tanti cittadini di godere la sfilata dell'auto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Giunti alla meta, gli organizzatori hanno sistemato le auto in modo tale da creare un bel colpo d'occhio e nel contempo offrire ai visitatori anche un bel panorama fin sulla costa. Doveroso da parte dell'organizzazione del raduno un ringraziamento all'amministrazione comunale, alla polizia locale e agli enti che hanno reso possibile questo evento veramente dispessore. Infine, grazie anche al sostegno fondamentale del vicepresidente Ferrari Club Reggio Calabria, Mimmo Spanti e a tutti i partecipanti che si sono mossi da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe.